l'abbiamo ripresa ragazzi l'abbiamo ripresa però l'atteggiamento non mi è piaciuto ora vi spiego il perché innanzitutto bentornati sul canale grazie per l'enorme supporto in live reaction vi siete iscritti in 7 quindi 7 nuove iscrizioni tantissimi like quindi grazie di cuore a tutti ragazzi parliamo di questo perugia lecce 1 a 1 un pareggio tutto sommato giusto onora al perugia per come ha giocato soprattutto il secondo tempo più ci penso più mi nervosisco primo tempo equilibrato molto bello occasione di ambo le parti squadre molto lunghe si è visto che comunque questa partita era fondamentale perché il perugia cercava punti importanti per riavvicinarsi alla zona playoff il lecce per confermare il primo posto per poter staccare le rivali poi al quarantaquattresimo c'è l'episodio che svolta o al meglio avrebbe dovuto svoltare la partita per noi in positivo c'è l'espulsione di quan il centrocampiso del perugia per somma di ammunizioni prende il pallone di braccio sul calcio di punizione di barrega quindi perugia in 10 uomini no voi penserete beh allora nel secondo tempo il lecce sicuramente riuscirà a segnare il gol del vantaggio a vincere la partita e invece nel secondo tempo giochiamo peggio che nel primo tempo non mi è sembrato assolutamente che il perugia era in 10 e noi in 11 mi è sembrato una partita in parità numerica perché il perugia nonostante l'inferiorità ha controllato benissimo la partita si è difeso bene non abbiamo tirato solamente una volta con Pablo Rodriguez che tra l'altro aveva tirato bene ma è stato bravo Kiki Zola poi il perugia ovviamente segna chi doveva segnare proprio Marco Olivieri ragazzi fa un bel gol perché c'è un lancio lungo dalla destra Olivieri controlla bene il pallone supera Blepe che era entrato all'infortunato Gabriel supera Blepe a porta vuota sigla il gol del 1 a 0 tra l'altro poi ha esultato in maniera molto vistosa e manca avesse segnato nella finale di Champions League però vabbè per tutte le critiche che ha avuto dai tifosi leccesi è una esultanza molto molto provocatoria ecco in sostanza poi dopo l'1 a 0 ti aspetti una minima una reazione una reazione minima c'è stata però occasioni pericolose non abbiamo praticamente mai create se non con Maier che ha tirato praticamente centrale facile per Kiki Zola e poi l'ottantottesimo arriva il calcio di rigore calcio di rigore è dovuto a un tocco di mano in area di rigore si presenta Massimo Coda ancora una volta il salvatore della patria Massimo Coda si che è il gol del 1 a 1 perché se non ci fosse stato il rigore l'avremmo perso questa partita ovviamente ovviamente poi gli ultimi minuti abbiamo giocato bene abbiamo sfiorato più volte il gol del 2 a 1 con Yulman ancora una volta che Kiki Zola è stato bravissimo a respingere il tiro di Mancino di Morten Yulman e dopo 4 minuti di recupero la partita finisce così da un lato sono contento perché siamo riusciti a pareggiare comunque su un campo difficile come quello di Perugia da un lato però non sono assolutamente contento dell'atteggiamento perché in 10 contro 11 dovevi mangiarteli gli avversari così non è stato quindi rimaniamo comunque primi a pari punti con la Chinemonese ora fino a sabato c'è sabato Lecce e Brescia ragazzi se sto bene andrò allo stadio perché ho ancora un pochettino di tosse se sto bene quindi appunto andrò allo stadio altrimenti faremo la live o farò il post partita poi vedremo vi auguro comunque uno buon fine settimana una buona domenica a tutti ci sentiamo con dei prossimi video ragazzi forza Lecce sempre e comunque nel bene e nel male e ciao ragazzi Grazie